Sono pronti ad attuare qualsiasi forma di protesta anche eclatante e se non avranno alcuna risposta da parte del Presidente e della Regione, il Gioleese Rosario Crocetta, in merito alle condizioni di assoluto abbandono in cui versa da anni il Porto Rifugio. Loro sono i componenti del Comitato del Porto, hanno atteso in vano gli interventi promessi dal Governo regionale, ma finora nulla. Ieri in Municipio hanno avuto l'ennesimo incontro, c'erano il Vice Sindaco Simone Siciliano, i consiglieri comunali Luigi Di Dio, Enzo Cirignotta e Salvatore Scerra. Il Presidente del Comitato, Massimo Livoti, e i segretari Ascanio Carpino e Antonio Adragna. Sul tavolo del confronto, come dicevamo, l'emergenza Porto. L'esponente della Giunta Messinese, che ricopre la carica di assessore allo sviluppo economico, ha ribadito che l'iter del finanziamento per i lavori dell'infrastruttura portuale è bloccato perché la Regione non ha ancora convocato la conferenza dei servizi alla presenza del Comune di Gela e dell'Eni per apporre la firma sul finanziamento. Un freno tirato a mano. L'amministrazione comunale, ha ribadito siciliano, ritiene fondamentale l'avvio dei lavori, ma se da Palermo non ci sentono, tutto rimane nel limbo. Unanime dunque la volontà di solicitare il Governatore Crocetta a fare qualcosa, immediatamente. Il consigliere comunale di Reset 4.0, Luigi Di Dio, ha chiesto la convocazione di un tavolo prefettizio immediato che metta assieme tutti i soggetti coinvolti per chiarire le responsabilità e sbloccare l'opera. Più volte i rappresentanti del Comitato e di altre associazioni che lavorano al porto hanno sottolineato che con i semplici proclami non si liberano le barche da un porto insebbiato e non si realizzano le condizioni minime di sicurezza. Vogliono solo lavorare. Da subito.